Ci riuscirò a tirare quell'Ender Pearl? No, decisamente no. NicoDePro è entrato in partita. Mmm, ciao. Scusa, non aspettavo nessun giocatore, perché ho detto nel forum che questa mappa è veramente brutta e quindi non la dovresti giocare. Per quale motivo hai rotto le regole? Ehm, ok. Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi, come avete potuto bene indovinare, perché mi trovo in un blocco di terra e cacca, mi trovo dentro la mappa più brutta mai creata in assoluto su Minecraft. Infatti il nome di questa mappa è proprio Mappa Brutta. Cioè, il creatore l'ha proprio creata così e credo sia fatta apposta, perché sono abbastanza sicuro che nessuno riuscirebbe mai a fare una mappa così brutta. Io non so ancora di cosa si parla, perché non l'ho guardato, non ho guardato nessun video e non l'ho ancora giocata. Quindi andiamolo a giocare insieme, ma prima di tutto ho lasciato un bel mi piacione a questo video. E adesso, beh, le risposte sono due. Perché è divertente andare contro le regole, oppure potrei rispondere mi dispiace. No, io dico perché è divertente andare contro le regole. Mi sono appena accorto che il colore arancione è molto bello, quindi continuerò a parlarti in arancione. Ok, come vuoi tu. Quindi non ho ancora finito la mappa. No, veramente, non l'ho ancora iniziata neanche. Però non andartene. La posso creare mentre procedi. Sono molto veloce. Iniziamo facendo diventare questo posto molto più grande. In tre, due... Oh, aspetta. Sono un narratore. Non posso contare. Ok, riproviamoci. Va bene. Clicco su pronto. Oh, ok. Wow. Wow, 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 wow. Che sta succedendo? Sto morrendo, sto morrendo soffocato. Qualcuno mi aiuti, per favore. Qualcuno mi aiuti. Ok, no, 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 no. Posso uscire? Sono morto. Ma... Ma non è giusto. Che cosa è appena successo? Oh, mi dispiace. Non sapevo che eravamo in un deserto. È stata veramente una mossa molto sfortunata il fatto che ho deciso di prendere un posto con la sabbia. Mi inventerò qualcosa e tornerò presto. Non fare niente di stupido. Cosa potrei mai fare di stupido? Esattamente in una mappa completamente vuota. Non è più vuota questa mappa. Oh, mio Dio. Dove mi trovo? Ok, mi trovo in un deserto. E siamo morti per colpa della sabbia e per colpa del creatore di questa mappa. Ci abbiamo veramente tanti pulsanti. Ci abbiamo qua un pulsante nascosto. Presumo... C'è un pulsante... Non posso muovere. Ci sono dei blocchi invisibili. Ci sono dei blocchi invisibili che mi bloccano. E là sopra vedo delle cose ma non riesco a leggere quel cartello perché è troppo distante. C'è scritto bottone che posso... Lo possono cliccare solo gli admin, credo. Sì, sono abbastanza sicuro che quello lo possono cliccare solo gli admin. E io non ci posso neanche andare là. Però ci sono dei cartelli. Eh, non li riesco... Non li posso leggere, sono troppo distanti. Là invece c'è un altro command block. Ok, allora, facciamo una cosa. Iniziamo provando a cliccare un pochettino questi pulsanti e queste leve. Magari succede qualcosa. Perché non ho veramente nient'altro da fare visto che il narratore di questa mappa è uscito. L'avete visto tutti quanti, ragazzi. Se ne è andato. Ha lasciato il server e quindi ora sono restato completamente solo. E io teoricamente potrei fare tutto quello che voglio visto che sono qua solo. E nessuno di questi pulsanti sta servendo assolutamente a niente. Tanto sono sicuro che ci sarà qualcosa sotto l'albero e devo cliccare quello. Solo che non c'è... Ok, l'ho cliccata. Oh! Mi ha dato un blocco. C'è un blocco che si chiama errore. Presumo che lo devo piazzare là sopra perché un errore più un altro errore formano la soluzione. Giusto? La matematica lo insegna. Non me lo fa piazzare. Non me lo fa piazzare. Allora lo dovrò piazzare forse là... No, 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 non devo cadere. Wow. Sto volando. Ma... Ma tutto ciò non ha senso. Tutto ciò non ha senso. Allora, forse lo devo piazzare qua? Sì, lo dovevo... Ne ho un altro. Me ne ha dato un altro. E dove lo piazzo questo? No, aspetta, non lo so. Devo piazzarlo di nuovo qua? No. Qualcosa mi dice che lo devo piazzare accanto a quest'altro command block. Beh, credo sia l'unica soluzione possibile, no? Sì, l'abbiamo piazzato. Oh, che sta succedendo? Cosa? C'è un errore di Minecraft. No, 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 aspetta, io che faccio? Torniamo al... Cosa? Single player, multiplayer, Minecraft Realms, opzioni... No, single player. Non posso giocare a single player. Multiplayer? Neanche. Realms? Neanche. Opzioni? Neanche. Uscire? No, 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 non voglio uscire. Aspetta, come? Ehi, sono tornato. Cosa è successo mentre non c'ero? Sì, stavo semplicemente uscendo dalla partita tramite i comandi della chat. Niente di serio. Ho fatto un bel casino. Quale scegliamo, ragazzi? Ho fatto un bel casino oppure stavo uscendo con i comandi della chat? Ho fatto un bel casino. Ho decisamente fatto un bel casino. Cosa hai fatto? No, 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 wow, 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 wow. Dove sono? Fantastico. Dove sei adesso? Non lo so. La tua mappa c'è dei problemi. Sono in una stanza nera. La tua mappa ha dei problemi. Tu hai dei problemi. Ma come si permette questo? Mi ha appena detto che io ho dei problemi. Allora, presumo che io debba andare davanti a quello smeraldo perché è molto luccicante. Spero che niente accada. È successo qualcosa. Oh, dove sono? Dove sono? Cos'è questa stanza? Che cos'è questo posto? Mi ricorda qualcosa? Ma non mi ricordo. Ma allora non ti ricorda di niente se non te lo ricordi. Cosa dobbiamo fare? Per quale motivo ci sono dei repeater? Ci sono delle... Posso entrare qua dentro? Qualcosa mi dice che non posso entrare qua dentro. Però sto entrando lo stesso. Allora, ci deve essere qualche segreto qua. Oh, che parte! Che paura! No, no, no. Tu non mi puoi fare queste cose. Oh, mi ricordo questo posto. Tu te lo ricordi? Clicca qua per vedere la mia nuova mappa. No, perché... Ehi. Mi ha ucciso. Mi ha ucciso. E mi ha pure scritto GetRacked. Ma non è giusto. Solo perché non voglio guardare la tua nuova mappa. Non mi puoi uccidere. Eh, io voglio giocare questa. Non voglio guardare altre mappe. Hai capito? Allora, allora. Qua ci abbiamo un piccolo problema, signori, signore. Abbiamo... Uh... Eh, ciao. Ciao. Sono NicolePro. Ok, NicolePro. Il server è crashato per me, se tu sei ancora dentro. E sto cercando di parlarti tramite dei cartelli. Bene, questo lo capisco. C'è un pulsante che restarte il server là sopra. Ah, me lo ricordo. L'ho visto prima. L'ho visto poco fa. Non ho la più pari idea di come tu lo possa raggiungere. Ma per favore, fallo. E io mica volo. Come faccio ad arrivare là sopra? No, aspetta. No, 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 no. No, seriamente, come faccio? Non ne ho la più pari idea, ragazzi. Non ne ho la più pari idea. Devo arrivare in qualche modo là sopra. Volete vedere che tramite command block ci posso arrivare? Volete vedere che devo cliccare qualcosa qua? No. Ah, qua non ci posso andare. Ah, non posso più andare qua perché come vedete c'è un muro invisibile. Vedete? Mi blocca. Sto cercando di andare ma mi blocca. Quindi presumo che io non possa neanche arrivare qua, giusto? No, non posso sbloccare le leve. Non posso fare niente. Quindi questo è tutto un livello completamente a caso. Non credo che io debba mettermi la game mod perché non avrebbe molto senso a dir la verità se mi dovessi mettere la game mod ma in qualche modo devo riuscire a superare questo livello che credo sia una specie di test. È un quiz. È sicuramente un quiz che mi sta facendo il creatore della mappa. Vero? Vero che è un quiz? Vero che c'è un modo per farlo? Io non posso camminare qua all'infinito in cerca di qualcosa. Devo pre... No, dai, come faccio? Veramente? Guarda, ragazzi, è infinito. È infinito. Non si sta più fermando. Io sto continuando ad andare lontano, lontano, lontano. Io odio questa mappa, fa troppo schifo. Non ci sto capendo più niente. Non ci ho capito un ciuffolo, un fico secco, niente di niente. Come faccio ad arrivare là sopra e attivare quel pulsante per resettare il server? Non si può, non è possibile come cosa. Ma ci devo andare veramente con la game mod? Ma non mi dite. Ma non è possibile. Non è giusto. Ok, qua non c'entra niente. Forse devo scendere. Forse devo scendere di nuovo. Forse la soluzione per arrivare là sopra è scendere qua sotto. Ma tutto ciò non ha senso. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Cioè, lui mi ha spawnato qua davanti le scale. Proprio per darmi l'input al cervello di salire le scale. Anziché andare a controllare i vari angoli. E poi mi ha portato qua sopra e mi ha fatto sentire come uno stupido. Ecco, mi sono sentito come uno stupido. E ci riuscirò a tirare quell'ender pearl? No. Decisamente no. Ok, abbiamo sbagliato la mira. Ma non importa perché possiamo riprovarci. Ne abbiamo veramente tantissime. Quindi devo semplicemente fare così. No. Aia. Sono morto. Ok, se non altro. Anche se muoio non succede niente. Ora ce la faccio. Dai, 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 dai. No. Perché faccio così schifo con le ender pearl? Qualcuno me lo spieghi, per favore. Forse ora, forse. Se cade in tempo. Decisamente no. Ok, ragazzi. Ci abbiamo un serio problema qua con le ender pearl. Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. No, no. Mi sta divertendo di più a giocare con queste ender pearl che a giocare la mappa in sé. No, aspetta. Torniamo indietro. Torniamo indietro perché dobbiamo fare un bel tiro potente così. No. Ragazzi, basta prendermi in giro. Lo so che mi state prendendo tutti quanti in giro. E mi state dicendo tutti. Oh mio Dio, Kendall, ma fai schifo con le ender pearl? Sì. Faccio proprio schifo con le ender pearl. Ma ci sarà un modo per salire là sopra senza failare? Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Resettiamo questo server. Ah, mio Dio. Ci siamo riusciti. Perfetto. Il server. Oh, 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 oh. Io non parlo sta lingua che è cinese. Sono morto. Mmm. Siccome non avevo un letto, ora sto volando. Certo, mi sembra giusto. Oh, sono tornato. Per fortuna hai visto l'ender perché ho lasciato là sotto nella ceste. Eh, grazie. Wow, che avventura. È stato fantastico. E... Cosa? Eh, ti è piaciuto? Aspetta. Non mi direi che la mappa è finita. No. No, non mi è... Vabbè, sì, è stato ok. È stato... Beh, che aspetti. Vai ad esplorare tutto. E grazie per aver giocato. Cioè, tu mi stai dicendo che è finita la mappa? Questo era tutto? Ora, ricapitoliamolo, ragazzi. Ricapitoliamo cosa è appena successo. Io sono stato spawnato in un blocco. Un blocchetto... Anzi, una casetta con due blocchi massimo d'aria. Con un certo Nico de Pro che mi parlava. Perché è stato a parlarmi per tutto il tempo. A dirmi cretinate su cretinate. Dicendomi che avrebbe potuto costruire una mappa più grande. E io ho cliccato ok. Costruisci la mappa grande e iniziamo a giocare. E poi cos'è successo? Mi ha buttato in mezzo al nulla. Lui è crashato. Io gli ho dovuto sistemare il problema. Ma siccome mi ero rotto le scatole, sono uscito dalla sua mappa. Una volta che sono uscito dalla sua mappa, lui è rientrato. Dicendomi che adesso sarebbe iniziata la vera mappa. Mi ha spedito là sotto. Ho fatto una specie di mini labirinto. Non lo so che cosa dovevo fare esattamente. E poi il server è crashato. E lui ha voluto il mio aiuto per resettare il server. E non appena io gli ho resettato il server, dice che la mappa è finita. Ma stai scherzando? C'è tutto qua. Questa è veramente la mappa peggiore del mondo. È la mappa più brutta che io ho mai giocato. Però a dir la verità, è stato veramente un genio costruirla in questo modo. Molto, molto creativa e molto bella. Seppur spoglia perché non c'era effettivamente niente. Ma mi sono divertito. Dico la verità ragazzi, mi sono divertito. Sarebbe stato ancora più bello se tutti i cartelli erano in italiano. Così tutti quanti voi li capivate. Però io ve li ho tradotti. Quindi avete capito cosa mi stava dicendo. E mi sono divertito un sacco. Spero vi siate divertiti anche voi ragazzi. Quindi mi raccomando lasciatelo in questo pollicione in su. Perché non costa niente. Ci vogliono tipo 0,56 secondi per lasciare un bel mi piace. Condividete questo video con tutti quanti i vostri amici se volete. Dal vostro Kendall è tutto. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao. Ora sono un fantasmino. Vado sotto la terra. Ciao ciao. Ciao ciao.